e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video e signore e signori che video se ieri vi ho fatto vedere uno dei mazzi più sbagliati di airsen ecco che oggi vi mostro una perla rara ragazzi questo deck credo che io potrei giocarlo per ore e ore e non mi stancherei mai di giocarlo fate sapere nei commenti se anche voi siete della mia opinione e soprattutto ricordatevi anche di scrivervi che per me conta davvero tanto di chi stiamo parlando beh stiamo parlando di un lock dal sapore sbarazzino e perché ha questo sapore un po insomma spicy beh giochiamo ragazzi la nuova spella 8 ruota della morte distrugge il tuo mazzo dopo 5 turni distrugge l'eroe nemico tutto il mazzo più o meno si va a creare attorno a questa spell che sarà potremmo dire la vostra core carta la vostra risorsa in più no per farvi vincere molti match up in particolare magari match up contro o magari match up più lenti tuttavia il deck comunque ha diverse power play interessanti che vi potranno far vincere anche contro mazzi aggressivi e altro andiamo quindi a vedere tutte quante le carte cosa scomba con questa spell 8 beh scomba tantissime carte come reno hero card che ovviamente andando via distruggere il deck avrete il deck in monocopia e quindi reno sarà un turno che farete perdere completamente all'avversario in quanto avrà a disposizione solo uno slot in campo e voi avrete una removal 5 di cura 2 di hero power insomma tanta roba ovviamente anche fenottem è una carta ideale per la spell 8 in quanto potrete giocare a 1 0 mana 15 15 con provocazione furto vitale quindi andarvi a repullare tantissimo altre carte sicuramente incredibilmente forti sono sinfonia dei peccati che scomba benissimo perché una volta che vi andate a distruggere il deck ecco che ne potete mettere un altro side deck potremmo definirlo così con 6 carte nel deck completamente nuove in cui voi non andrete a prendere danni e questo vi permetterà alla fine dei conti di ottenere pescare delle carte che sono incredibilmente forti costano semplicemente 3 mana e hanno un power level altissimo per il resto il lock si presenta come un mazzo control qualsiasi quindi vuole pulire la board come può farlo? beh può farlo con dono di guldan che vi da tantissime removal ma una mass removal come la spell 8 risucchio d'anima come single target removal e spira letale invece come peschino e piccolo single target removal abbiamo profanazione per andare a rimuovere invece le board ad esempio i mazzi token o più aggressivi prosciugamento d'anima, single target removal, eredicazione che è anche una cura e anche i riverberi che alla fine fa come da single target removal ricordiamoci che anche sinfonia può fare 6 danni a tutti i servitori e quindi non è per niente male per quanto riguarda giochiamo anche dei servitori belli grossi come il patto dei vincoli buio che non è un servitore una spell ma alla fine quello che fa è evocare un servitore che potrete andare a sdoppiare anche grazie al luogo Forge e Volontà per poter dare rush, fare un value trade e mettere tanta pressione all'avversario altri servitori interessanti sono l'hoken che a sua volta vi permette di andare a prendere uno servitore quali servitori di solito volete andare a prendere? beh spesso e volentieri andrete a scegliere Sergeras sia per le statistiche sia appunto per ottenerlo in mano ma anche un fenotem potrebbe essere davvero la svolta per questo servitore per quanto riguarda le altre carte beh sono Arp per andarsi a curare per non prendere danni a Fatigue Dono ne abbiamo già parlato Estrazione per andare insomma a svolgersi in mazzo e andare a pescare magari carte che vi servono di più Spacca Speaker è un attach card se trovate appunto tanti mazzi che funzionano con le spell ad esempio Razakus Priest oppure lo stesso in verità Prete con i Draghi per andarli ad annullare il turno con l'1-3 oppure lo stesso Locke insomma potrebbe essere un turno davvero molto fastidioso per non pensare poi contro il Mage Sventraguffo per ottenere un vantaggio di Cristalimana Ziliax un altro anti-fatigue definitivo che inoltre vi aiuta a traddare a curarvi e a fare un pochino tutto e poi niente abbiamo le carte che abbiamo visto prima chiude la lista quanto è troppo è troppo che è un ottimo spell anche qua Mass Removal che fa tre danni spesso e volentieri voi avrete tante carte in mano e quindi vi costerà semplicemente un mana ragazzi questa lista è davvero bellissima io spero di farvi innamorare come sono innamorato io attualmente direi che per ora è davvero tutto andiamo immediatamente con i game andiamo subito quindi con la prima partita di oggi e vediamo che andiamo a incontrare il Preta ragazzi che c'è da dire del Preta è il mazzo più forte del meta ovviamente quindi viene spammato come sempre Fenottem direi che è un pochino troppo pesante per il momento andiamo a scambiare tutto patto del vincolo buio invece potrebbe essere un'ottima carta Spakka Speaker la vogliamo non credo per il momento innanzitutto dobbiamo scoprire quale Preta potrebbe essere l'avversario non ci dà molti indizi a questo punto andiamo a scambiare il 4-4 che per il momento non dovrebbe essere interessante l'HP non è un problema noi andiamo a fare semplicemente l'eeropower in questa situazione qui ci andiamo a prendere un altro 4-4 e va bene così 3-6-7-8-9 al prossimo turno il Forge della Volontà lo andrò a giocare sicuramente perché è un turno molto molto buono soprattutto in ottica di Spella 4 l'avversario ha giocato comunque la Spella 3 sicuramente molto buona va a fare pendente della terra si andrà a curare in verità è già 30 HP non sappiamo nemmeno che cura è andata a fare giusto? no perché non ce lo dice il gioco ma va bene così andiamo di Spella 4 a questo punto andiamo a duplicarci un altro 8-8 e vediamo se ha una Spella che può comunque rispondere a questa giocata qui che non è fortissima per Prete ma comunque potrebbe dar fastidio purtroppo a parole d'ombra non è quindi il Prete con Azzarimi che non avrebbe avuto risposta è un Control Priest che ci potrebbe dare fastidio magari nelle nostre giocate più tempo, più veloci ma teoricamente alla Spella 8 non dovrebbe avere troppe possibilità di risposta o comunque insomma troppe chance per andare a ribeltare le sorti di questa partita 3-6-9-10 carte in mano potremmo anche pensare di andare a utilizzare il 4-4 in questa situazione che gli può dar fastidio turno dopo andremo ancora a fare Sventragufo per andare a rampare e dovremmo essere abbastanza contenti in questa situazione anche se l'HP mi lascia sempre abbastanza soddisfatto è un Razza l'avversario ok è problematico Razza è abbastanza problematico però ci possiamo giocare non c'è dubbio sto pensando che turno andare a fare ora vogliamo arrivare a fare allora lui sarà di sicuro un Mazz Islander quindi Sergaras il luogo ovviamente il portale verrà distrutto da Reno a meno che non lo giochiamo dopo aver giocato Reno sto pensando qual è il turno che in verità ci convenga di più credo possiamo andare a tappare per il momento possiamo andare a fare la Svelta 1 in questa maniera riusciamo a tradare la maggior parte delle cose torniamo a 25 HP siamo abbastanza tranquilli e qui io passerei il turno senza fare nulla di più complicato olio di serpente a scambio non è un particolare problema noi probabilmente andremo di 3-4 al prossimo turno in modo da non solo ridurre il Mande del Prete ma anche aumentarlo per noi e velocizzare magari una giocata di Sergaras o insomma altre giocate particolari ci vuol dire che se gli baitiamo Reno ecco potrebbe essere anche un vantaggio per noi nel lungo periodo però stiamo a vedere di sicuro qua gli andiamo a rubare la cosa ha senso fare estrazione secondo me può avere anche senso ci andiamo a prendere il 3-3 è vero che andiamo a sprecare una Forge in questa maniera ma poco male il 3-3 è sicuramente una carta incredibilmente forte e di cui siamo contenti di andarla ad avere vediamo chi sarà più veloce tra la nostra spell da 8 e la sua combo con Razza sarà abbastanza decisiva dire è vero io non so se abbia senso andare appunto di Sergaras il prossimo turno il vantaggio è che effettivamente se non dovesse avere Reno Sergaras risulta essere incredibilmente forte nei prossimi turni sappiamo che ha due carte con Forgiatura lui in mano quindi potrebbe non aver Reno io l'andrei a forzare a questo punto della giocata perché una volta che mi mette Reno rischiamo di andare a perdere wow abbiamo la spell da 8 riusciamo a sopravvivere con la spell da 8 questo è un bel quesito a dire è vero se riusciamo a sopravvivere però stiamo giocando contro Prete secondo me riusciamo a sopravvivere alla grande andiamo a farlo ragazzi spell da 8 per il momento 5 turni vediamo se riusciremo a resistere starà tutto qui Sergaras è sicuramente molto buono abbiamo Reno attivo anche l'avversario risponde con Elise non è sicuramente un problema Yogg è già più un problema in quanto potrebbe andare a fare un turno estremamente forte invece decide di andare semplicemente a prendere il 3-2 vediamo che spell va a tirare in questa situazione si refulla mi refulla anzi quindi gentilissimo il Reno in questa situazione abbiamo 1-2 3-3 non riusciamo a traddare tutto 1-2 manca il 3 purtroppo lo possiamo creare il 3 noi avremmo il 4 in verità sì che riusciamo a creare il 3 e a me sinceramente piace abbastanza andare a creare il 3 in questa situazione possiamo andare a fare lui possiamo andare a fare Spira in verità va un Twisting non capisco perché sto facendo queste cose complicate quando era già tutto quanto fatto ma va bene così ci piace fare cose particolari e quindi va bene così ok dobbiamo sopravvivere altri 3 turni Reno e Sargeras sono due carte incredibilmente forti ovviamente ce la dovremmo fare vediamo se riuscirà a mettere una buona borda Reno non è un problema in quanto con tutta tranquillità noi possiamo andare a rispondere ora di 3 4 a dire è vero vogliamo anche andarci a curare secondo me può aver senso andarci a curare in questa situazione passiamo il turno due turni ragazzi due turni alla fine ce lo dovremmo fare teoricamente però stiamo a vedere quanti danni ci andrà a fare l'avversario in questa situazione qui wow ha già la combo tra l'altro ho trovato il mana che lo continua a ricaricare che è tremendo perché manno infinite in questo modo che sfortuna mamma mia che sfortuna ragazzi va bene non credo che mi risca non ci credo 7 mana ancora gerellone va bene mamma mia perché ha trovato il mana di aeropower esattamente corretto io non ci credo avrebbe già finito il mana avanti non dovrebbe essere un problema ancora 4 che ci sta lì di mana l'avversario evoca un servitore ok gioca anche un altro 2-5 wow non può mai farla combo in questo turno credo infatti non ce la fa farla ok noi possiamo andare di reno dammi l'hp armatura rimviene una magia boh rimveniamo questo sicuramente no boh in verità fa tutto abbastanza schifo e va bene così un turno ragazzi ora vediamo se riusciamo a sopravvivere di sicuro l'eropower è altrettanto buono per lui perché questo comunque gli rimviene le magie il che è pessimo no se tipo fosse stato quello dell'armor se fosse stato quello di evo conservitore era tutto perfetto comunque lui non può evocare tanti servitori quindi a meno che ora non inizi davvero ad avere un'infortuna incredibile con le magie qua la partita si dovrebbe essere conclusa a nostro favore pendente da terra non è un problema due mana rimanenti credo che sia gg well played ragazzi ottimo così null'altro a dire ci fa ulteriori due danni arriviamo a 10 ma appunto ha finito i cristalli di mana noi possiamo tranquillamente non andare a fare più nulla facciamo fine la prima partita e qui si attiva la ruota e andiamo a vincere così il primo game beh ragazzi la combo l'abbiamo già fatta la prima partita questo lock oltre a essere divertente sapete che vi dico forse è anche molto forte e andiamo avanti subito allora diretti con il secondo game perché wow mamma mia questi sono proprio i mazzi che ti fanno innamorare di erson bellissimi come bellissima speriamo appunto che sarà il secondo scontro che ci vede affrontare una classe solida forte competente incredibilmente buona come un lock quindi un mirror match va bene non dovrebbe essere particolarmente un problema vediamo di giocarcelà al meglio delle nostre capacità in modo da poterla andare a battere andiamo a scambiare queste tre carte non mi fanno impazzire voglio qualcosa di meglio sergeras è carino ma non è che sia fondamentale davvero bello il game contro il prete di prima nulla a dire niente l'avversario ci sta pensando non so se fosse chissà che cosa quanto difficile noi non abbiamo turno 1 passiamo il turno vediamo Geobar cosa riuscirà andare a fare nel suo turno 1 che probabilmente sarà un turno passo in quanto è lock meglio avere più carte in mano possibili andiamo a tappare purtroppo niente luogo a tremana il che è davvero male noi abbiamo fatto il maligan per andare a cercare proprio quel luogo lì abbiamo la spella 4 che comunque ok anche se non particolarmente forte oh luogo l'abbiamo trovato lo andiamo anche a giocare immediatamente la spella 4 tuttavia non è che trova una grandissima value per il momento purtroppo per noi va anche di 1 o 2 ok sinfonie non è male vogliamo andare a tappare qui o vogliamo andare a fare semplicemente la spella 4 io credo che abbia una grande value qui la spella 4 andiamo a fare quindi danni è vero che avversario va a 9 carte in mano che sono tantissime ha pure il patto e quindi forte per lui noi comunque possiamo rispondere di un risucchio d'anima che risulta essere molto buona non solo andiamo a spotare su 8-8 ma ci curiamo anche e va bene così non mi fa impazzire tappi in tu spella 4 vabbè l'avversario ne ha uno nuovo va bene forte lui a questo punto andiamo ad accompagnare il disventra gufo in modo da ottenere un cristallo di mano in più e sperare di fare qualcosa di meglio anche se qui la vedo abbastanza dura va a rievocare un 8-8 l'avversario purtroppo non riusciamo a giocare immediatamente il 6-12 wow questo trade è bruttissimo però io sono contento di questa cosa rievoca un altro 8-8 va bene va a fare anche il coin che fai ne rievoca un altro no va a tappare questa volta allora ragazzi tutto sta qui nell'andare a trovare il 6-6 no il 6-6 qui ci fa vincere probabilmente la partita sullo spot man manco i 6 danni ma ci rendiamo i 6 danni andavamo bene perché tradavamo 1-2 con la spell da 2 no niente nel 6-6 nei 6 danni pazzesco vabbè abbiamo perso probabilmente la partita in questo modo che altro è di 8-16 24 danni quanti tipo di danni incredibilmente elevato fenotte ma ovviamente non fa la differenza prendiamoci tutti questi danni in bocca prossimo turno abbiamo il vantaggio di poter giocare Sergeras che di sicuro è un ottimo turno il problema che siamo 6 punti vita speriamo che basti il 3-6 il 3-6 è ottimo che lo vada a sprecare in questa maniera alla fine lo andiamo a rimuovere completamente in questo modo andiamo quindi a giocarlo andiamo a inviare tutti nella distorsione fatta ci possiamo andare a copiare il 6-12 e comunque fare un turno dignitoso il problema più grande ovviamente è la nostra vita che è estremamente bassa però nel caso in cui lui non dovesse trovare danni noi dovremmo essere messi abbastanza bene a questo punto del match anche perché un Sergeras così un 6-12 doppio 3-2 iniziano ad essere tanti danni che gli possono arrivare in testa anche e soprattutto questo 6-12 ora darà anche più 2 salute ai vari 3-2 quindi bene così lui ha davvero fatto la giocata più forte che poteva andare a fare quindi andare a evocare un demone noi avevamo la risposta e poi andarne a evocare addirittura 3 di demoni 8-8 il Dungard ci va a testa va a fare hero power wow se lo risciotto non è in my detail questo nemmeno se va su di lui il che è un mezzo problema di sicuro qua ci vogliamo andare a curare questo è poco ma sicuro ok ragazzi andiamo anche a tappare dobbiamo tappare prima dire è vero lei ok andiamo a giocare lui andiamo a evocare il 12-18 andiamo a fare il 6-12 lui diamo più 2 provocazione così il demone che ci viene evocato ha pure taunt quindi se avesse un altro Dungard noi siamo salvi e teoricamente qui è scacco matto 8 mana ha già utilizzato il coin quindi non può andarci a fare sergeras non ha reno oddio potrebbe aver reno attivo ma non credo che giochi reno sinceramente il mazzo avversario in quanto è un 2x e non dovrebbe giocare la spella 8 infatti non è così riverberry è più che ok perché il 12-18 non fa nulla evoca W66 ma non ha il portale attivo quindi addio qua ci va a fare 3 danni non sono sufficienti sono 18 danni da questi due servitori e ragazzi abbiamo chiuso anche questo bel game che dire mano d'oro da parte dell'opponent ma semplicemente la nostra lista è migliore io ragazzi vi porto le migliori liste fabbrica proprio il marchio d'are assicurato tac lì come sul parmigiano reggiano fidatevi me che queste liste vi faranno scalare ovviamente come sempre non andate a craftare nulla nel chill aspettate di vedere il meta come si evolve ma di sicuro questo lock è molto carino andiamo quindi con l'ultimo game cercando l'ennesima vittoria di oggi che dovrà vederci rigiocare contro lock purtroppo un'ennesima volta ventraguffo vi devo dire non mi dispiace affatto doppio sventraguffo non è per niente male in quanto alla fin dei conti è una carta che gli toglie tanti cristalli di mana noi fa andare molto in vantaggio già turno 5 potremmo decidere ad andare a fare quindi turno 5 turno 6 e vediamo il da farsi lo svantaggio è che l'avversario potrebbe giocare la lista con i giganti il che potrebbe essere un problema per noi stiamo a vedere potremmo settare arma per andare a fare hero power ma io credo che due danni non dovrebbero risultare problematici per il momento anche perché possiamo farli tranquillamente turno dopo quindi nuovamente arpa più hero power il turno è sicuramente molto più pulito non credo che l'avversario ci punierà in maniera incredibile è un lock con le melme mi sa va bene andiamo quindi di arpa andiamo di hp passiamo il turno estrazione lascia un pochino il tempo che trova finalmente troviamo anche zirax che potremmo decidere di andare a giocare molto presto però prima andiamo a vedere che cosa deciderà di giocare l'avversario cosa non scontata io credo che sia un melmalocchi in quanto il 2-2 lascia prege il 2-2 ma che dista particolare quella dell'avversario noi comunque qui andiamo a evocare un 9-9 che di sicuro fa il suo in questa circostanza molto grosso e vediamo soprattutto se l'avversario andrà a traddare con il sventragufo sventragufo spell da 8 potremmo andare a fare una roba del genere io con questa mano non sopravvivo questo è il problema più grosso si va a prendere l'olio di serpente ci fa ulteriori due danni eradicazione mortale va benissimo per il momento sul 9-9 rimane con due mana non può purtroppo tappare in quanto andrebbe a millare e quindi probabilmente passerà qui il turno andando però a giocare un'arpa noi possiamo andare a scontrare a squinare sventragufo lo lasciamo a 5 mana anche il turno successivo lo lasceremo di nuovo a 5 mana per il suo più grande dispiacere che noi qui vogliamo rampare differenza sua qui un serpinnus in questo mazzo sarebbe bellissimo è un peccato che sia ruotata come carta dinamia del carrello va più che bene se fa doppio trade ce lo prendiamo super volentieri è il turno che va a fare non è un particolare problema noi possiamo tornare sventragufo andare a far la spell da 1 sinfonia dei peccati è sicuramente molto buona anche perché possiamo andare a questo punto a fare la spell da 8 con molta più tranquillità nei prossimi turni spell da 8 in 2 spell da 5 ci andiamo a rimettere le cose mazzo è vero non abbiamo tanto valore anzi di valore ne abbiamo stra poco però c'è da dire che il man maloc è super indietro quindi questo fa schifo andiamo a scambiarlo ecco era esattamente la carta che volevo andare a ottenere e va bene così è vero non abbiamo reno non abbiamo niente però ragazzi la spell da 8 è incredibilmente buona secondo me magari mi sbaglierò stiamo a vedere soprattutto un Sargera se lui è ancora 6 cristalli di mana noi siamo a 9 dovremmo riuscire a gestire più o meno tutto sinfonia dei peccati prossimo turno scenderà scenderà? non lo so se vuole scendere sinfonia dei peccati prossimo turno lo 0-3 non è un particolare problema vi dirò che la sinfonia potrebbe scendere io credo di farla scendere anche perché se troviamo i 6 danni è la cosa migliore del mondo 6 danni li abbiamo trovati andiamo quindi a distruggere praticamente tutto lasciamo l'avversario a 19 HP e qui l'avversario va a concedere la partita ragazzi che c'è da dire di questo lock un lock che risulta incredibilmente buono incredibilmente forte non ha particolari pecche come vedete la spell 8 è incredibilmente consistente soprattutto con carte come Reno come Sergeras e come in verità un semplice spell 5 che ti permette di andarti a mettere ulteriori carte in mazze quindi non andare nemmeno a prendere la mia fatiga ma anzi andare a pescare carte che alla fine risulta incredibilmente forte per il loro costo in mano un deck che quindi sembrerebbe non avere particolari difetti certo contro prete probabilmente potrebbe far molta fatica ma prete lasciamolo lì da parte che fa un Erson per conto suo e direi che a questo punto per oggi è davvero tutto io spero che come al solito il video vi sia piaciuto noi ci vediamo stasera con la live come al solito e niente fatene sapere con un bel mi piace un commento ovviamente e soprattutto l'iscrizione mi raccomando ciao